Oggi continuiamo a vedere la parte di teoria per quanto riguarda le architetture. La volta scorsa eravamo arrivati, diciamo così, a condividere il fatto che all'interno del sistema di elaborazione, quindi la CPU che era composta dall'unità operativa e l'unità di controllo, la sua volta abbiamo visto che l'unità operativa era composta da registri e l'unità rimetico-logica e l'unità in virgola mobile, era governata in termini di evoluzione da un segnale di temporizzazione diciamo unico, poi in realtà nei calcolatori moderni ce n'è più di uno a velocità diverse, ma per semplificare il nostro modello mentale è un segnale di temporizzazione che dice alle varie unità quando poter lavorare. E quindi da un lato un computer è più veloce se lavora a una frequenza di clock maggiore. Più è veloce la frequenza di clock, più in tempo, più velocemente, quindi meno tempo ci metterà a svolgere un determinato calcolo. Tenendo presente che però le varie componenti del calcolatore hanno velocità operative diverse, cioè riescono a eseguire operazioni in un tempo diverso. Tutto ciò che è strettamente collegato alla CPU, quindi l'unità di controllo, l'unità operativa, i registri, di solito sono i componenti che viaggiano alla velocità maggiore. La CPU è il componente più costoso perché ha dentro la circuiteria più veloce e quindi riesce a stare alla velocità del clock. Quindi noi quando abbiamo un computer che è un clock 3,7-3,9 GHz, in realtà quella è la frequenza a cui lavora la CPU, la CPU e i registri di unità rimenticologiche. Il resto del calcolatore lavora a velocità, adesso lo vediamo meglio con le memorie, a velocità più lenta perché la circuiteria corrispondente è più lenta e quindi richiede più tempo a fare operazioni oppure perché le operazioni che deve fare, come ad esempio di unità del vingolo mobile, richiedono proprio per loro natura, l'esponente, la mantissa, devi metterla a posto, eccetera, richiedono più passaggi, perché ciascuno dei quali passaggi richiede invece un ciclo di clock. Quindi da un lato per far andare più veloce un computer cosa bisogna fare? Bisogna aumentare la frequenza di clock? Uno, possibilità. Si può, beh, i circuiti che vanno a velocità maggiori costeranno di più, quindi aumentano i costi e comunque poi ci sono dei limiti fisici oltre i quali non sia capace di fare circuiti più veloci. Si può cercare di svolgere delle operazioni che impegnino per meno cicli di clock, quindi quando è possibile usare numeri interi piuttosto che numeri in virgola mobile, quindi minimizzare gli accessi di memoria, minimizzare gli accessi alle periferiche, eccetera, quindi ridurre il numero di, aumentare il numero di istruzioni che posso svolgere in un certo numero di cicli di clock, facendo istruzioni e operazioni meno esose in certo senso, oppure, tendenza verso cui vanno sempre più i computer moderni, aumentare il numero di CPU. Cioè dentro un computer, se una CPU ha quella velocità lì e voglio fare più operazioni, metto un'altra CPU a fianco, una terza, una quarta, metto più unità di controllo, metto più unità metricologiche e così via, e quindi questo computer è potenzialmente capace di lavorare in parallelo. Dopodiché, tutto anche dipende dal software, perché se a voi adesso ricordate l'analogia della calcolatrice che facevamo la volta scorsa, se ci mettessero 10 calcolatrici davanti, non è che facciamo i conti 10 volte più veloci, perché comunque siamo sempre solo uno a piggere i tasti, chi piggia i tasti è il software, ricordiamo, che decide quali operazioni fare. Quindi il software deve essere predisposto per dare del lavoro a tutti in parallelo che possono andare avanti. Questo è un problema, diciamo così, sulla crescita della velocità degli laboratori al giorno d'oggi, che è limitata da vari fattori. Quindi alla fine, dal punto di vista, diciamo così, del dimensionamento, del capire queste unità di misura, noi abbiamo la frequenza di clock, o il periodo del clock, che mi dà un certo tipo di cadenzamento temporale, le istruzioni macchina, ciascuna delle quali, magari le più veloci, impiegano un solo ciclo di clock, le più lenti ne impiegano 10, 15, 20, e il numero di istruzioni che dobbiamo eseguire. Quindi se mi chiedi quanto dura l'esecuzione di un programma, l'esecuzione di un programma sarà data dal numero di istruzioni che deve eseguire, più le istruzioni, 100.000, 1.000.000, più è furbo l'algoritmo, meno le istruzioni dovrà eseguire. Moltiplicato il numero di cicli di clock che ciascuna istruzione impiega, per cui la CPU è impegnata per eseguire questa istruzione, qui in questo esempio qua diceva, supponiamo che le istruzioni durino in media 4 cicli di clock per istruzione. Chiaramente è un valore medio, ci sono istruzioni più veloci e altre più lente, dipende dal mix di istruzioni di cui ho composto il mio programma. E dal periodo di clock. Quindi se mi chiede quanto tempo ci vuole eseguire un programma, io moltiplico il numero di istruzioni per il numero di cicli di clock per istruzione per la durata di un singolo ciclo di clock. Allora qui mi dicevano che il clock era 1 GHz, quindi un singolo ciclo di clock dura 1 nanosecondo. 1 GHz e 1 nanosecondo sono uno reciproco dell'altro, no? È lo stesso numero. Periodo 1 nanosecondo frequenza 1 GHz. Se mi dici che mi servono in media 4 cicli per eseguire un'istruzione, vorrà dire che io per eseguire un'istruzione spendo 4 nanosecondi. E se devo eseguire un milione di operazioni, ciascuna delle quali occupa 4 nanosecondi, avrò 4 milioni di nanosecondi. Cioè 4 millisecondi, nano, micro, milli. Devo spostarmi di 6 unità di misura. Quindi alla fine c'è la concatenazione di questi tre fattori. Periodo di clock, o frequenza, se lo volete esprimere come frequenza. Numero di cicli di clock per eseguire in media un'istruzione e numero di istruzioni per eseguire. Combinando questi tre fattori c'è tutta una serie di esercizietti che avrete anche probabilmente già visto, che gioca su questi tre fattori, moltiplicare, dividere, eccetera, ma la formuletta è tempo uguale numero di istruzioni per periodo di clock per ciclo di clock per istruzioni. Giocando in questa formuletta vi fate il 20% degli esercizi che parlano di questo tema. Poi ovviamente tutto dipende da questi tre fattori, ma il più importante è il numero di istruzioni. E il numero di istruzioni dipende anche molto sia da quanti dati ho, perché elaborare mille numeri, se mi servono 100 istruzioni per numero sono 100 mila, ma se ho un milione di numeri sono 100 milioni, quindi è chiaro che... ma poi ci sono alcune operazioni che richiedono un tempo che non è proporzionale alla quantità di numeri che ho a disposizione, che devo elaborare. ci sono algoritmi cosiddetti lineari, per cui se raddoppia la quantità di numeri, raddoppia il tempo di esecuzione. Ci sono invece algoritmi, ad esempio, quadratici, in cui se raddoppia la quantità di numeri, il tempo di esecuzione viene, diciamo, moltiplicato per 4, cioè il quadrato del rapporto tra la dimensione del problema. E questo è il tipico esempio degli algoritmi in cui magari ho dei numeri, devo confrontare tutti con tutti, ciascuno con tutti gli altri. Allora, il numero di confronti che devo fare non dipende dal numero di elementi, ma dal numero di coppie di elementi, n quadro. Oppure, algoritmi ancora più complicati, tipo, che ne so, gli anagrammi, no? Se io ho gli anagrammi e le permutazioni, dato n elementi, il numero di permutazioni è n fattoriale, oppure il numero di sottoinsiemi è 2 elevato a n. Quindi ho un numero di operazioni da fare che cresce in modo esponenziale, 2 alla n, o più che esponenziale, con un fattoriale, poi voi ste cose qua vanno fatte io piccoli, sapete meglio di me, e che quindi mi incide molto di più sulle prestazioni del computer. Quindi è molto più importante riuscire a risolvere un problema usando un algoritmo lineare o polinomiale, se esiste, perché non ho detto che esista, piuttosto che un algoritmo più stupido, che ha una potenza più alta, oppure addirittura un esponenziale. Questo ad esempio mi fa vedere che se io ho un computer che ha delle prestazioni P e poi qualcuno mi regala un computer che è a mille volte più potente, allora se si deve eseguire un algoritmo lineare, da n elementi riesco a elaborarne mille volte n, perché il mio computer è mille volte più potente. Se invece fosse già quadratico, da n elementi, con un computer mille volte più potente, riesco a elaborare circa 30 volte n. 30 alla radice di mille, no? E se fosse un esponenziale riesco a elaborare gli stessi elementi più 10 scarsi, quindi neanche 10 volte tanto, più 10. Quindi riuscivo a fare con 100 elementi, compro un computer mille volte più potente, 109. E tutti gli algoritmi ovviamente di ottimizzazione e di ricerca ricadono in quest'ultima riga qua, no? Vabbè, però poi quando farete corsi sugli algoritmi gli andrete a conoscere. Quindi di tutti i fattori che possono aumentare le prestazioni di un calcolatore, la più principale è l'algoritmo adottato. Poi, a parerciare l'algoritmo, più è veloce l'hardware, ovviamente, più finisco il lavoro. E questo dal punto di vista del calcolo. Ma anche avendo tanti dati, non ci stanno nella CPU. Vanno memorizzate. Il calcolatore, quindi la CPU, non può far nulla se non ha a disposizione una quantità di memoria a cui poter attingere. Attingere cosa? Attingere le istruzioni, innanzitutto. Ricordate il ciclo di fetch. La CPU si sveglia e dice io devo leggere dalla memoria un codice di istruzione. Allora, questa memoria deve esistere e deve contenere, istruzione dopo istruzione, tutto il mio programma. E poi anche i dati. I registri li ho, mi servono per memorizzare i risultati delle operazioni, ma ho qualche decina di registri. Magari ho invece un migliaio di dati dove li tengo questi dati, non nei registri. in uno spazio di memoria. Poi, quando ho finito di lavorare, devo salvare il risultato. Da qualche parte, ovviamente, dovrà essere salvato su un disco, su una memoria di massa, eccetera. Quindi ho varie, tra l'altro, tipologie di memoria che, dal punto di vista del principio, funzionano tutte nello stesso modo. Poi, dal punto di vista pratico, invece, hanno molte differenze tra di loro. Dal punto di vista del principio, cos'è la memoria? È un insieme di cassetti, celle, contenitori, che possono contenere ciascuna un dato e ciascuna di queste celle è identificata da un ben determinato indirizzo, indirizzo di memoria, indirizzo 0, 1, 2, 3, e così via. Sembra una frase simile a quella che ho detto quando vi ho raccontato le liste. Tanti cassetti dove ci posso mettere dentro le cose. In realtà, qui siamo a livello di circuito hardware. E quindi, il numero di cassetti è fisso, quanti circuiti ho, la dimensione di ciascun cassetto è fissa, il tipo di dato che ci posso mettere dentro è fisso, cioè 64 bit, 128 bit, quanti sono? Non lo posso modificare, quindi l'idea è la stessa, ma chiaramente qua è tutto molto bloccato, molto predefinito. Quindi, ogni celle di memoria contiene una quantità fissa di bit che prende il nome di parallelismo della memoria. Una memoria con celle da 8 bit, una memoria con celle da 16 bit, da 32, da 64, tipicamente sono da 64 oggi. Quindi, quando dico la cella di indirizzo 0, di indirizzo 1, di indirizzo 2, sto parlando di una cella che contiene 64 bit, la cella di indirizzo 1 contiene altri 64 bit, e così via. E ciascuna di queste celle di memoria può essere letta o scritta indipendentemente, e io leggo e scrivo sempre una parola intera di bit, una parola di quella dimensione. tutte le celle di un banco di memoria hanno tutte la stessa dimensione, supponiamo, appunto, 64 bit. E quindi, in qualche modo, abbiamo, ci visualizziamo la memoria con una serie di celle consecutive, ciascuna dei quali ha un indirizzo, e dentro cui, quando noi vogliamo accedere a un dato, dobbiamo fornire indirizzo, e scopriamo qual è il valore che è memorizzato qua dentro. Io qua ho fatto, diciamo, un errore di disegnare queste celle vuote. La memoria non può mai essere vuota. Contiene dei bit, e quei bit valgono 0 o 1. Quindi un valore c'è sempre, magari sono tutti 0, magari sono tutti meno 1, che corrisponde a 1, 1, 1, ma un valore c'è sempre, non posso mai avere una cella che non contiene nulla. Quando accendo il computer, tutte le celle di memoria assumono un valore iniziale. Questo valore io lo posso leggere o scrivere. Posso leggere o scriverlo conoscendo l'indirizzo della cella a cui mi interessa andare a leggere il dato, oppure l'indirizzo della cella nel quale mi interessa andare a scrivere un dato nuovo che andrà, ovviamente, a sostituire quello precedente. E se noi potessimo scegliere che memoria vogliamo nel nostro computer, diremmo, beh, voglio una memoria più grande possibile, che costi meno possibile, che sia più veloce possibile, perché se è lenta mi rallenta tutto il programma tutte le volte che devo leggere o scrivere un dato. E poi, ultima cosa che a prima vista non ci sembra importante, ma in realtà lo è, è che non perde i dati. Se è una memoria li devi memorizzare. Quindi, quando spengo il computer, quando stacco la corrente, i dati che hanno la memoria rimangono o si cancellano? C'è una proprietà che si chiama di volatilità della memoria. Quindi, a seconda di come ci giochiamo questi fattori, abbiamo tipi di memorie diverse che anche costruttivamente sono diverse. i registri del processore sono un tipo di memoria, salvano dei dati, ne ho pochi, ho poche celle, ne ho 20, ne ho 100. Quella è una memoria velocissima, risponde in un ciclo di clock, di meglio non posso fare. Costosissima, perché è fatto di circuiti più veloci che posso avere, dentro la CPU, addirittura dove lo spazio è limitato. E però, è una memoria volatile, nel senso che tutte le volte che spengo la corrente, i dati che sono memorizzati negli registri vengono persi. Così come i dati memorizzati nella cosetta memoria centrale, nella memoria RAM del calcolatore, vengono persi. Mentre invece, per quello è il motivo per cui dobbiamo salvare le informazioni su disco. perché invece ci sono delle tipologie di memoria che invece mantengono, se lo salvate su una chiavetta o su un SSD, dentro, prendete il computer, i dati rimangono. Per un certo periodo di tempo, qualche anno, forse. Però, visto che non è possibile avere una memoria che abbia tutte queste caratteristiche, ci si gioca con diverse tipologie di memorie e poi le facciamo lavorare insieme. Quali sono queste tipologie di memoria? Ebbè, diverse. Noi abbiamo, dicevo, la memoria più veloce e più costosa in assoluto, ma è anche la più piccola perché è la più costosa, che sono i registri. I registri sono dentro l'unità operativa, il più vicino possibile al cuore del computer, dove vengono le operazioni. Quindi devono essere abbastanza veloci di essere dietro all'unità operativa stessa, all'ALU. Poi ho la cosiddetta memoria di massa o memoria principale, detta anche RAM, memoria RAM. Si chiama anche memoria RAM per motivi storici, nel senso che il RAM sta per Random Access Memory, memoria d'accesso casuale. Casuale non vuol dire che fa un po' che cacchio vuole, casuale vuol dire che io posso leggere o scrivere indifferentemente qualunque indirizzo. mi piaccia. Questo è contrapposto alla memoria di accesso sequenziale che oramai non esiste più, in cui potevo leggere solamente la cella 2 dopo aver letto la 1 e la 1 dopo aver letto la 0, che era basata su un meccanismo di accesso sequenziale. Quindi è un nome vecchio, però è rimasto per indicare un certo tipo di tecnologia di memoria. La memoria RAM è una memoria che sta dentro il calcolatore, è collegata abbastanza direttamente alla CPU, però è una memoria di tipo volatile. Tutto ciò che è dentro questo riquadro qui è alimentato a corrente, quando toglie la corrente perde i dati. La memoria RAM l'ho disegnata più grande dei registri. Cioè, se io registri ho detto che ne avrò 100 di memoria RAM ne avrò qualche non so, 16 GB è un bel po' più grande di 100, 16 miliardi, no? Ho un numero di cellule di memoria molto maggiori. Il parallelismo sarà lo stesso, se ho dei registri a 64 bit ha senso che anche la memoria abbia delle parole a 64 bit, così ogni volta che leggo scrivo un dato faccio un trasferimento della memoria al registro, perché se avessi dimensioni diverse dovrei spezzare ogni trasferimento in due e quindi lavorerai il doppio e sarà il doppio più lento, i primi calcolatori avevano queste limitazioni adesso non più e quindi la memoria di lavoro principale del calcolatore, cioè quando voi salvate un dato, quando voi scrivete un programma, quando il programma elabora dei risultati, quando salvate una variabile va tutto a finire in RAM, nella memoria RAM. la memoria RAM non è direttamente collegata all'unità operativa quindi ogni dato che salvate nella memoria RAM per poter essere elaborato deve prima passare nei registri e poi da lì essere elaborato dall'ALU per esempio e poi il risultato che va finito in un registro dovrà essere di nuovo spostato nella RAM. Questo lo fa il compilatore per voi questo lavoro qua. Quindi noi lavoriamo essenzialmente la CPU lavora essenzialmente con i dati nella memoria centrale portandoli sempre avanti e indietro dai registri. E poi c'è la memoria di massa i cosiddetti dischi adesso in realtà non sono una volta dischi che giravano ruotavano dischi meccanici ci sono ancora adesso ma ormai si lavora sempre più con i dischi allo stato solido quindi le tecnologie che si chiama flash i dischi flash gli SSD solid state disk che di dischi hanno solo più il nome perché in realtà sono circuiti elettrici ma hanno la caratteristica di essere non volatili permanenti se io salvo qualcosa sul disco che sia un disco meccanico che sia un disco SSD il dato rimane fino a quando non viene sovrascritto o cancellato e mi serve perché tutte le volte che spengo la corrente i miei dati i miei software il mio sistema operativo deve rimanere vivo da qualche parte e quindi lo devo salvare sulla quella che si chiama memoria di massa o memoria esterna quindi la RAM è la memoria interna o la memoria principale i dischi fanno parte della memoria esterna o memoria di massa e anche qua la memoria di massa l'ho disegnata più grande della memoria interna perché almeno vari ordini di grandezza maggiore voi prendete un computer di oggi ha un SSD che se siete al risparmio sono 500 giga altrimenti sono 1 o 2 terabyte ok quindi noi avete la memoria centrale diciamo di 16 giga e la memoria di massa di 1 terabyte 1 tera sono 1000 giga quindi abbiamo la memoria di massa che è circa 100 volt almeno 100 volt normalmente 100 volte maggiore rispetto alle memorie centrale la quale la memoria centrale è un miliardo di volte maggiore in termini di capienza dei registri della CPU quindi per questo si chiama di no gerarchie di memoria perché ho memorie diverse più mi allontano in qualche modo dalla CPU più queste memorie possono diventare grandi contemporaneamente diventeranno anche più lente questo finisco la frase dopo che rispondo a vostro compagno allora quando io uso un software faccio partire il programma il programma è memorizzato su disco quando io installo un programma installo un'app va a finire su disco sulla memoria di massa e sta lì poi quando lancio l'app la apro il programma il codice eseguibile del programma viene copiato nella memoria RAM perché dalla memoria RAM la CPU l'unità di controllo in particolare può fare le operazioni di fetch che dicevamo e leggere un'istruzione per volte per poterlo eseguire quindi un programma salvato sul disco non è eseguibile non è in esecuzione prima va il codice eseguibile va le istruzioni vanno copiate in RAM e a questo punto la CPU le può cominciare a eseguire i dati su cui lavoro sono nella memoria centrale vengono salvati letti scritti nella memoria centrale ma ovviamente per poter essere elaborati devono passare dai registri quindi però i registri sono solamente di passaggio o ti tengono magari i calcoli intermedi di un'espressione ma poi il risultato deve essere salvato in RAM se poi il dato lo voglio salvare permanentemente lo dovrò a sua volta scrivere su un file che va a finire sul disco quindi mentre ci lavoro ce lo ne registri quando lo immaginate è un po' come anche lavoriamo noi nel senso che tu quando stai scrivendo qualcosa sei su un foglio poi quel foglio fa parte di un quaderno e quel quaderno fa parte magari della libreria dove metti tutti i vari appunti quando tiri fuori un quaderno degli appunti a questo punto se l'hai davanti c'hai comodo ma hai solo quel quaderno lì hai una libreria molto più ampia di cose potenzialmente utilizzabili ma ne utilizzi una per volta e di quella una per volta in realtà sta scrivendo su una pagina sola che sono i registri in questa analogia più mi allontano la CPU più il costo al byte diminuisce perché ho 16 giga di memoria RAM e ne ho 1000 di disco al strato solito non potrei avere 1000 giga di memoria RAM? sì ma costerebbe un esproposito costerebbe 5000 euro solamente di RAM perché fate una tecnologia diversa rispetto a quella del disco al strato solito che punta a una maggiore miniaturizzazione un minor costo eccetera eccetera a spese della velocità è più lenta dimmi non necessitano di? no allora lui parla degli SSD con la sigla NVME che sono un tipo di tecnologia di memorizzazione di massa allo stato solido che viene spesso montata o saldata sulla scheda madre del calcolatore il fatto che sia saldata che non sia collegata a un cavo esterno non cambia la sua natura il fatto che non è direttamente accessibile alla CPU comunque poi è molto più veloce di un SSD collegato via SATA ad esempio ancora molto di più di uno collegato via USB per dire però in ogni caso l'unica memoria a cui la CPU ha accesso diretto è la memoria centrale l'unica memoria a cui l'unità armetico-logica ha accesso sono i registri poi si cerca di avere dei dischi della memoria di massa anche lì più veloce possibile più integrata possibile più strettamente collegata possibile con la CPU ma stiamo sempre parlando di ordini di grandezza diversi quindi noi abbiamo dalla memoria più vicina al calcolatore più veloce che sta al passo con l'elaborazione del calcolatore che sono i registri della CPU per arrivare alla memoria RAM che è una memoria volatile è fatta di molte più celle parliamo appunto di varie decine di gigabyte di giga di miliardi di celle quindi e può essere letta scritta indifferentemente qualunque celle di mezzo tra i registri e la memoria RAM qui in questa figura parla di cache cache di primo livello e cache di secondo livello qui le distinguo in due perché c'è una cache di primo livello che è praticamente dentro la CPU e una di secondo livello che è tendenzialmente fuori dal CPU ma sopra la scheda madre queste sono memorie che dal disegno ci sembrano via via più grandi magari la cache di primo livello è a qualche centinaio di kilobyte magari qualche megabyte e la cache di secondo livello è a qualche magari decina o centinaio di megabyte da non confondere con i gigabyte della RAM centrale e a cosa è qual è il ruolo di queste memorie intermedie è quello di velocizzare i trasferimenti dai verso la memoria centrale perché velocizzare aspetta è che non so se ho ma è tutto figlio di questa tabella qua guardiamo solo le prime due colonne in particolare partiamo dalla seconda la RAM la RAM della memoria centrale qui dice che ha un tempo d'accesso 50-150 nanosecondi facciamo una media facciamo ne 20 facciamo 50 facciamo una memoria veloce 50 nanosecondi anche meno quello di oggi questa slide è un po' vecchia capite che ogni anno i numeri migliorano per fortuna però facciamo finta che sia 50 nanosecondi se abbiamo un computer a 1 GHz lento perché oggi sono più veloci quindi sta andando in risparmio energetico lento a 1 GHz vuol dire che per leggere un dato da questa memoria devo aspettare 50 cicli di clock quindi se devo fare la somma di 100 dati ci metterò un ciclo di clock per fare operazione più e 50 per aspettare il prossimo dato un ciclo di clock per fare operazione più e 50 per aspettare il prossimo dato capite che la CPU è anche più veloce del mondo anzi più veloce peggio è passa la maggior parte del suo tempo in questo caso era il 98% del tempo ad aspettare che la memoria risponde se la CPU fosse appunto 4 volte più veloce quindi a 4 GHz ci metterebbe un quarto di 1 secondo e quindi deve aspettare un clock per fare l'operazione e 200 clock per aspettare il dato della memoria 50 di 1 quarto quindi va bene 50 nanosecondi ci sembrano pochi però rispetto alla CPU che lavora ai GHz e le decine di nanosecondi sono lente allora cosa si fa si mette tra la RAM e la CPU una memoria che sia più veloce più lente dei registri che lavorano magari appunto 2-4 GHz un quarto di nanosecondi ma più veloce della memoria centrale qui ci sono degli ordini di grandezza qualche nanosecondo di tempo risposta allora qualche nanosecondo vuol dire che la CPU quando deve leggere o scrivere un dato da questa memoria intermedia aspetta sì ma aspetta 3-4-5-10 cicli di clock non 50-200 e allora questa memoria cache che cos'è contiene una copia non contiene dei dati suoi non è una memoria in più ma contiene una copia di comodo dei dati della memoria centrale che sono utilizzati più di recente che sono più utilizzati in questo momento per cui quando la CPU chiede un dato della memoria centrale chiede e aspetta però quando il dato gli arriva nel frattempo passa in mezzo perché queste sono messe in mezzo alla memoria cache la quale dice sai cosa me ne faccio una copia perché se poi questa CPU avesse di nuovo bisogno di questo dato per rileggerlo o per modificarlo a breve rispondo io non aspetto che rispondi alla memoria RAM io sono 10 volte più veloce rispondo io prima e addirittura questo giochino viene fatto su più livelli nel senso che c'è la cache di secondo livello che è fuori la CPU quello è il primo livello che è ancora più veloce quasi come i registri è più piccola perché è più piccola perché la circuitità di cui è fatta è più costosa e quindi è in un ambito in cui l'area sul silicio è più preziosa è più limitata e quindi ci si riduce però ogni livello di memoria mantiene una copia parziale dei dati della RAM che probabilmente speriamo no? se è fatto bene che siano i dati di cui la CPU ha bisogno poi queste cache sono anche furbe nel senso che a volte quando io chiedo un dato alla memoria la memoria cache dice senti va bene dammi questo dato ma dammi anche gli altri 8 successivi 16 successivi io me li tengo perché è molto probabile che se questo programmatore qua mi sta leggendo un array una lista di celle se mi ha chiesto una celle tra un po' mi chiederà quella successiva allora fai che darmele e così rispondo già subito quindi addirittura riesco anche ad anticipare a evitare di accedere alla memoria RAM perché la memoria cache prevede già quali dati serviranno alla CPU se poi sbaglia la previsione pazienza va bene allora vorrei dire che aspetterò la risposta della RAM ovviamente questa previsione è limitata questa capacità della previsione è limitata dalla capacità della cache cioè la dimensione della cache più è grande più potrò vedere se è piccola vorrà dire che avrò memorizzato gli ultimi dati e poi quando mi erano dati nuovi butterò via quelli più vecchi ho sempre una finestra su un sotto insieme di dati non li ho tutti perché è più piccolo allora la CPU che cosa vede? la CPU vede può accedere a qualunque dato delle memorie centrali per forza perché è quello che chiede ma il tempo di risposta che vede è più vicino a quello della memoria cache che non della memoria centrale quindi abbiamo fatto un gioco di magia per cui abbiamo dal punto di vista della CPU una memoria che è grande come la memoria centrale ma veloce come la cache per finta se funziona se la cache funziona bene prevede bene non possiamo costruire una memoria centrale veloce come la cache ma abbiamo questo meccanismo di previsione di salvataggio di dati intermedi che fa sì che alla CPU sembri di poter utilizzare qualunque cellula della RAM e poi dico guarda mi è arrivato in fretta come se la RAM fosse veloce quanto la cache di primo livello quindi tutti questi sistemi di gerarchie di memoria parliamo dei primi tre livelli di gerarchie di memoria i registri la cache della memoria principale servono proprio per compensare il fatto che la CPU è molto più veloce della memoria centrale tra l'altro fa ridere no non fa ridere ma fa lo stesso è un dato storico nei primi personal computer questo problema non c'era perché anzi la memoria centrale era più veloce della CPU poi man mano che si è evoluta la tecnologia la tecnologia delle CPU è evoluta più rapidamente della tecnologia delle memorie RAM e quindi quando questo scollamento ha cominciato a rendersi significativo e cominciava ad avere delle CPU che poteva andare dieci volte più veloce della RAM è inutile che io vada più veloce come CPU se poi devo stare fermo ad aspettare l'altro mi invento qualcosa in mezzo e questo stesso principio quindi spesso le memorie cache sono fatte con una tecnologia diversa che si parla di RAM statica ma in realtà queste cose ormai le tipologie dal punto di vista tecnologico le tecnologie di memoria sono talmente tante che non vale neanche la pena di cercare di impararle perché dopo sei mesi sono già cambiate e tutto questo per quanto riguarda la memoria centrale poi c'è il passo dopo che è la memoria di massa la memoria di massa la memoria centrale da sola non basta uno perché non posso avere terabyte di RAM costa troppo e due perché in ogni caso è volatile e quindi non posso rischiare di perdere i dati più è grande più ne perdo no, non va bene e allora è necessario comunque per tutte cose indispensabili se il calcolatore non può funzionare una memoria di massa che non deve più essere volatile abbiamo una memoria permanente secondaria esterna che costa molto meno se voi andate a vedere quanto costa un SSD da 2 terabyte siamo sui 200 euro e con quei 200 euro ti compri forse 32 giga di RAM più o meno ecco adesso non sono aggiornatissimo come ordine di grandezza quindi a parte di prezzo chiaramente le dimensioni sono molto diverse è permanente ma guarda caso è tanto più lenta gli SSD siamo arriccati nella dimensione delle memorie flash e hanno un tempo di accesso che può essere di qualche millisecondo metti anche uno per fare però un millisecondo rispetto a nanosecondi della RAM cioè un milione di volte non un milione è un milione quindi leggere un dato dalla memoria di massa mi costa un milione di volte in più in termini di tempo rispetto a leggere lo stesso dato della memoria RAM che mi costa 100 volte di più rispetto a leggere dalla cache che mi costa 10 volte di più rispetto a leggere da un registro quindi motivo per cui i programmi cercano di minimizzare le operazioni di lettura e scrittura della memoria di massa ovviamente perché vanno a bloccare il programma noi non ce ne accorgiamo è veloce sì millisecondi ho capito millisecondi ma per tutti che ragioni con i nanosecondi è un'attesa infinita di un milione di cicli di clock però se vai a vedere il costo costa 10 al byte un ordine di grandezza in meno della memoria RAM quello che costa qualche decina di gigabyte di RAM costa qualche migliaio di gigabyte di SSD quindi uno o due ordini di grandezza di differenza e quindi dovendo combinare ingegneristicamente questi vari fattori cerchi di avere un mix equilibrato quando dimensioni un sistema nuovo deve essere equilibrato inutile avere la memoria il disco troppo veloce la memoria lenta oppure la cache troppo piccola oppure il processore troppo veloce se no vai a spendere dei soldi inutilmente per avere un componente che è più veloce di quelli che ci stanno intorno e quindi di fatto non lo stai sfruttando per quanto l'hai pagato i dischi a strato solido non si usano quasi più praticamente ma si usano in realtà quando abbiamo bisogno di capacità di memorizzazione molto più grande cioè un disco a strato solido va oggi 4 terabyte in su anche anche fino a 16 l'SSD per ora costano troppo a quelle dimensioni lì quindi di nuovo ci sono tutte queste varie tecnologie che evolvono ciascuna per conto proprio ma che poi vanno combinate insieme nell'economia di un sistema di elaborazione tra l'altro ci sono altri due fattori se pensiamo ai sistemi di elaborazione moderni pensiamo ai smartphone o ai laptop ci sono altri due fattori da tenere in conto che non sono solamente la capacità di memoria e la velocità quindi il tempo di risposta gli altri due fattori sono il consumo energetico quanto consuma la batteria e la dissipazione di calore che poi sono collegati quanto scalda avere oggi la maggior parte del tempo il vostro smartphone o il vostro computer è in modalità risparmio energetico nel senso che avete una CPU che va a 3 giga ma se andate a guardare adesso sta andando probabilmente 0,8 giga più di lì perché in quel momento non serve perché state solo guardando un'immagine o state scrivendo la figura tu scrivi un tasto scrivi 10 caratteri al secondo in un decimo di secondo quanti cicli di clock arrivano cioè se più non ha niente da fare tutto il giorno e quindi per risparmiare energia e per risparmiare calore risparmiare calore vuol dire non attaccare la ventola o magari avere meno bisogno della ventola quindi un dissipatore più piccolo un dissipatore più piccolo significa un peso minore significa uno chassis più compatto eccetera eccetera mille fattori di progetto che fanno sì che oggi la potenza di calcolo delle CPU sia limitata più dai fattori energetici quindi calore dissipato e energia necessaria per alimentarlo piuttosto che da altri fattori i smartphone non esisterebbero se non si fossero riusciti a far funzionare una CPU con frazioni di watt prendete un pc da tavolo lo accendete e consuma subito 70 watt 70 watt a batteria dura un minuto e poi si spegne quindi anche qua c'è un fattore tecnologico che in funzione del tipo di elaborazione ci sono tipi di tecnologie tipi di CPU diversi per i vari tipi di domini applicativi e quindi a volte non si spinge tanto su un lato ad esempio andare su CPU più veloci dei 4 gigabyte non si va perché scaldano troppo allora piccole come sono stiamo parlando di qualche millimetro di lato metti 5x5 mm una cosa di questo genere se questo produce 200 watt fonde è pur sempre un metallo no? come fai a portare fuori 200 watt di calore una stufetta da un centimetro quadrato da un quarto di centimetro quadrato non ce la fai e quindi non riesci anche se in teoria la tecnologia potrebbe andare più veloce non ce la fai perché se spingi più di tanto non riesci a raffreddarlo più di quanto lo riscaldi no? a fine informatica sono stufe eh se andate a vedere dal punto di vista termodinamico tu butti dentro energia e dici fuori calore no? poi questo calore ha anche delle forme che noi vediamo ci piacciono ma sempre quello ecco dal punto di vista appunto della memoria di massa tendenzialmente abbiamo memoria flash che è il primo nome che hanno avuto le memorie che adesso si chiamano SSD in tutte le loro varie incarnazioni e da qualche parte ci sono ancora i dischi fissi i dischi rigidi no? che soprattutto nei computer portatili tendono a scomparire perché erano molto più lenti e consumavano anche molto più energia no? quindi di fatto non erano oltre che essere più ingombranti però invece in alcuni casi soprattutto sui fissi dove hai bisogno di più capacità di memorizzazione molta di più no? sopravvivono ancora sopravvivono tutte queste tecnologie ancora contemporaneamente e nella logica della gerarchia di memoria in realtà dal punto di vista del software io posso salvare o leggere qualunque dato da disco in qualunque momento lo porto in RAM e poi lo uso quindi in qualche modo è come se la CPU avesse accesso all'intera capacità della memoria di massa con un tempo di accesso che se il sistema operativo lavora bene è vicino a quello della memoria centrale perché magari riesco a trasferire i dati dalla memoria di massa alla memoria centrale mentre faccio altre cose e quindi non è un tempo in cui mi devo stare fermo ad aspettare quindi questo aspetto di gestione della memoria è quasi altrettanto complicato come la CPU che avevamo la volta scorsa in cui eseguivamo le operazioni lo diamo un pochino per scontato perché è tutto trasparente in qualche modo io leggo un dato scrivo un dato però dietro ci sono tutti questi meccanismi che fanno sì che la lettura e la scritta del dato avvenga in modo efficiente ed economico efficiente come tempi ed economico come diciamo così la spesa che opera una determinata capacità di memoria ecco adesso noi abbiamo sempre parlato in generale no? c'è la RAM che è collegata alla CPU poi è collegato il disco alla memoria esterna che vuol dire collegato? vuol dire che in un certo senso io ho un circuito di qua un circuito di là e si devono parlare in qualche modo quindi ci sono dei fili elettrici che collegano i due su questi fili elettrici viaggiano i dati e viaggerà un dato nuovo ogni ciclo di clock oppure ogni che ne so quattro cicli di clock se invece la connessione è più lenta rispetto al periodo del clock dipende un po' dalla distanza che devo percorrere eccetera da una velocità dei due circuiti che si devono parlare e quindi abbiamo una CPU che deve parlare con la memoria di massa deve parlare con della memoria delle periferiche estese deve parlare con la scheda video per farmi vedere le cose deve parlare con la scheda audio per registrarmi la mia voce deve parlare con la scheda di rete per collegarmi al wifi quindi sono tanti circuiti diversi che assolvono funzioni diverse dentro il calcolatore pensiamo all'input e l'output della prima slide di questa parte acquisisco dati trasquisisco dati e tutti questi dati devono essere collegati alla CPU alcuni di questi circuiti sono dentro la CPU stessa altri come la memoria centrale tipicamente devono essere molto vicini altre periferiche che devono hanno meno necessità di andare veloce o di scambiare dati velocemente con la CPU possono avere dei collegamenti anche meno efficaci meno efficienti meno rapidi però se io in un calcolatore ho tanti componenti che devono parlarsi un pochino tutti ho un problema di interconnessione cioè se io ho tanti elementi che devono scambiare dati non posso prevedere di collegare questo con l'altro con l'altro con l'altro in tutti i modi possibili perché altrimenti io avrei un computer che è fatto solo di interconnessione esploderebbe in modo quadratico il numero di interconnessioni punto punto quindi anche l'interconnessione anche i collegamenti stiamo parlando banalmente di piste elettriche di fili elettrici devono avere una loro logica per poter essere gestibili per non esplodere e questa logica è quella dei cosiddetti dei bus un bus è una struttura di interconnessione condivisa tra più componenti cioè l'idea è che se ho tante cose da collegare non ho un collegamento dedicato tra ciascuna coppia ma un collegamento unico a cui si agganciano tutti quindi ho tanti componenti uno di questi rettangoli sarà la cpu l'altro sarà memoria l'altro sarà la scheda video l'altro sarà la scheda di rete l'altro sarà l'interfaccia per la memoria di massa eccetera eccetera se io voglio aggiungere un nuovo componente lo aggiungerò collegandolo al bus di sistema infatti non nei portatili ma nei pc diciamo fissi voi aprite vedete che ci sono dei connettori liberi in cui puoi agganciare roba tipicamente compri la scheda video la metti in un connettore apposito che ti collega direttamente è questa freccia grigia qua il connettore ti collega al bus di sistema quindi in questo caso se questo signore deve scambiare dei dati con quest'altro lo può fare perché basta che i dati viaggino di qui su questi fili e di là qua non c'è praticamente non ci sono circuiti ci sono solo fili qual è il problema quindi qui non ho problemi di scalabilità ho un unico insieme di fili con dei connettori a cui aggancio alcune cose alcune cose sono già pre-agganciate diciamo la cpu la ram sono saldate sulla scheda altri si possono agganciare qual è il problema è che chiaramente che se questo signore sta trasferendo dei dati a questo sotto questi altri due non si possono parlare perché i fili su cui si parlerebbero sono gli stessi quindi questo bus è una struttura di comunicazione condivisa ad accesso esclusivo che uno per volta deve parlare dobbiamo metterti d'accordo adesso tu trasferisci i dati a quell'altro adesso tu prendi i dati da quell'altro cioè è una struttura condivisa e quindi bisogna prenotarla e usarla ma in un calcolatore è abbastanza facile perché abbiamo uno che sa tutto che è la cpu sa chi deve mandare i dati a chi ram manda il dato all'alu registro 3 manda il dato all'interfaccia del disco che deve essere salvato cioè il fatto che ci sia un trasferimento solo per volta non è un grosso problema perché in realtà questi trasferimenti sono quasi tutti comandati dalla cpu che sa che cosa fare e ovviamente condivide questo bus tra le varie operazioni che devono essere fatte quindi abbiamo risparmiato molto in termini di connessioni abbiamo creato un sistema che è espandibile perché io basta che aggiunga elementi a questo bus condiviso e questi potranno parlare tra di loro quindi posso aggiungere della memoria aggiuntiva posso aggiungere delle interfacce aggiuntive così via delle schede video in più in modo relativamente facile allora magari ho un computer che ha bisogno di due schede video perché deve fare le operazioni oppure con la gpu che deve fare le operazioni che adesso fanno con tutta la parte di machine learning e quindi ho bisogno di due schede video potenti l'altro invece non ha bisogno di grosse schede video ma magari ha bisogno di più periferiche e allora perché magari lui lavora in una band e deve interfacciarsi con tutti gli strumenti musicali e quindi ha bisogno di schede audio potenti e di mixer e quindi il computer è lo stesso il bus è lo stesso dipende di che cosa ci fico dentro dipende di che cosa connetto al bus di sistema e poi ovviamente ci farà un software che è in grado di gestire tutte queste cose il software non ce lo toglie di mente nessuno e quindi tutti i trasferimenti avvengono attraverso questi bus è facile stendere è facile aumentare il numero di componenti all'interno di un calcolatore è facile far sì che tutti parlino con tutti perché basta che tu rispetti le regole del bus e non devi sapere neanche chi altri c'è collegato quel bus lì c'è una standard e lo segui un connettore fatto uguale per tutti è chiaro che i trasferimenti contemporanei non sono possibili e quindi il bus va negoziato e il CPU deve farsi carico lei di decidere chi lo usa in quel momento tra l'altro tra la CPU e le cache di solito non si usa il bus del sistema ma hanno un bus dedicato per loro perché lì devono viaggiare in modo abbastanza libero senza interferire con il resto del sistema di lavorazione quindi anche i bus in realtà non c'è ne uno solo ci sono più sottosistemi ma quello principale fa vedere che ad esempio qua il processore che è questo qua in rosso sta ordinando a questi due blocchi di scambiare dati e quindi sta in qualche modo fornendo l'accesso al bus a questi due blocchi dicendo uno leggi l'altro scrivi e il dato viaggia tranquillamente da qui a là o viceversa come come è stato indicato e dato che dato per il suo dato no? che sul bus viaggia un dato per volta qual è la quali sono le prestazioni di questo bus? beh quanti dati riesco a trasferire? quanto veloce riesco a essere? beh dipende da due fattori essenzialmente quanto velocemente riesco a succedere un dato a un altro a un altro a un altro quindi ci sarà anche lì immaginiamo un clock che mi dice ok adesso hai 3 nanosecondi per spedire un dato poi finito 3 altri 3 nanosecondi un altro dato altri 3 nanosecondi un altro dato e così via quindi anche lì c'è un cadenzamento che sarà ovviamente più lento del clock della CPU perché i fili sono più lunghi quindi hanno il tempo di trasmissione maggiore i circuiti con cui ti colleghi sono più lenti non sono tutti della stessa tecnologia della CPU e quindi ci sono i clock dei bus tipicamente vanno sui 600 MHz più o meno un po' meno di 1 GHz o 300 dipende dalle varie modalità poi c'è il bus della scheda video che è un bus dedicato invece che va più veloce per quel componente specifico quindi la frequenza del bus mi dice quanti dati riesco a trasferire su quel bus in unità di tempo ogni dato può essere trasferito tra una coppia qualunque di elementi e poi ovviamente più fili ho paralleli più ogni trasferimento porterà una quantità maggiore di bit quindi se ho un bus che ha 16 bit paralleli a ogni trasferimento che avvenga con una certa frequenza trasferirò 16 bit 2 byte se invece ho un bus da 32 bit ad ogni trasferimento trasferirò il doppio di byte il doppio di bit quindi la quantità di dati trasferiti in un bus è data dalla frequenza di trasmissione moltiplicata per l'ampiezza del bus quanti bit ho in ogni trasferimento in realtà poi quello di cui stiamo parlando è il cosiddetto quello di cui abbiamo parlato finora è il cosiddetto data bus il bus dei dati in realtà il bus di sistema in realtà è composto da tre sottosistemi uno appunto chiamiamo data bus o bus dei dati è quello su cui viaggiano i dati è quello di cui abbiamo parlato se devo spostare dei dati quanti ne posso spostare al secondo ok posso spostare 600 mega quindi 600 milioni di dati al secondo e c'è un dato 32 bit e quindi potrò trasformare trasportare quanti sono 82 per 600 mega bit al secondo dopodiché supponiamo che queste sono delle memorie se devo trasferire i dati da una memoria all'altra oppure dalla CPU alla memoria non basta che io dica questo dato lo mando alla memoria numero uno questa memoria magari di 8 gigabyte si lo mando alla memoria numero uno ma in che cella lo devo salvare questo dato oppure se devo leggere un dato della memoria 2 ok il dato della memoria 2 lo metterà sul database in modo che chiunque è interessato lo possa leggere ma quale dato tra gli 8 giga cella di memoria ha questo allora per sapere quale dato scrivere o quale dato leggere serve specificare l'indirizzo e quindi oltre ai fili database su cui permettiamo il dato servono dei fili su cui scriviamo l'indirizzo address bus il bus dell'indirizzo il bus che contiene l'indirizzo così quando una unità di memoria deve leggere o deve scrivere un dato sa qual è la cella di memoria tra l'altro magari questa unità di memoria sa che lei gestisce gli indirizzi da 0 a 8 giga questa gestisce gli indirizzi di memoria da 8 a 16 giga e quindi a seconda dell'indirizzo che ho specificato sa se deve rispondere la memoria 1 o la memoria 2 l'altra non risponde neanche e poi all'interno della memoria 2 qual è l'indirizzo specifico che le interessa che interessa la CPU perché è lei che sta comandando quindi anche qua l'unità di input e di output se io devo salvare su un disco su quale disco nel caso di cui ne abbia più di uno anche lì c'è un indirizzamento tra le varie unità di input e le varie unità di output un indirizzamento più semplice rispetto a quello delle memorie però quando hai tanta roba attaccata devi dire ok sei tu sei tu sei tu qual è la periferica con cui sto parlando e poi c'è l'altro bus di controllo C bus su cui viaggiano essenzialmente i segnali di temporizzazione di stato lì dentro ci sarà il clock del bus lì dentro ci sarà il comando che dice leggi o scrivi però la gente sto scrivendo devo dirlo c'è un segnale che dice i dati sono pronti o non sono pronti il bus è occupato oppure è libero dei segnali da vigile urbano dice tu vai tu ti fermi eccetera l'operazione è finita può andare avanti la prossima è un bus comandato nella cpu chiaramente attraverso cui un po' come ricordate i fili di controllo che la cpu mandava all'unità operativa dice adesso attraverso questi fili ti dico cosa devi fare ecco un altro insieme di fili la cpu li manda verso il control bus e attraverso il control bus sta comandando tutti gli altri periferici esterni alla cpu che sono attaccati al bus del sistema comandando loro di leggere o scrivere dei dati mettendoli o prendendoli dal bus dei dati allo specifico indirizzo che è stato scritto sull'address bus quando dicevamo alla cpu fare l'operazione di fetch fare un fetch per la cpu significa mettere nell'address bus il contenuto del program counter che contiene l'indirizzo della prossima istruzione e dare un comando sul control bus di lettura alla memoria la memoria sputerà fuori questo dato sul database la cpu se lo prende e lo mette nell'instruction register quindi quei concetti astratti che dicevamo una volta scorsa leggi scrivi alla fine di nuovo ho tolto un po' di poesia mi dispiace ma significa scambi di segnali elettrici su dei fili di controllo di dato o di indirizzo e c'è un legame indissolubile in termini di buon dimensionamento tra queste varie caratteristiche del calcolatore nel senso che immaginiamo la memoria centrale la separazione della memoria di massa la memoria di massa non è collegata direttamente al bus del sistema e quindi non ha un indirizzo non funziona in questo modo quando vedremo i file con la programmazione vedremo che lavora in modo sequenziale e non in modo diretto l'accesso diretto la memoria di massa pensiamo alla memoria centrale io nel mio computer installo 100 gigabyte di memoria centrale a parte che non c'è abbastanza slot in cui infilarle ma non servirebbe nulla o meglio serve se poi il computer è in grado di indirizzare 100 miliardi di indirizzi diversi di celle diverse cioè il numero di per accedere a ogni cella di memoria devo mettere sull'outres bus l'indirizzo della cella di memoria stessa se io ho un address bus di 20 fili di 20 bit potrò distinguere tra 2 alla 20 indirizzi diversi 2 alla 20 è poco 4 milioni 4 mega quindi se io avessi un address bus di 20 bit potrei accedere al massimo 4 mega celle di memoria poi possono essere 4 megabyte se ciascuna cella è da 1 byte possono essere 8 megabyte se ciascuna cella è di 16 bit c'è 2 byte o così via quindi la dimensione dell'outres bus mi dà un limite massimo al numero di celle di memoria indirizzabili di più posso anche averle installate nel computer quelle celle ma non potrò mai scrivere qual è il loro numero perché non ho abbastanza bit per scriverlo quindi la dimensione dell'outres bus mi dà una dimensione un limite alla capacità massima di memoria che potrò mai pensare di installare nel calcolatore anche per quello che noi dicevamo sempre i dati oggi nei calcolatori lavorano su 64 bit ma l'outres bus di 64 bit non avrebbe senso un'outres bus di 64 bit significherebbe avere 16 miliardi di miliardi di celle 4 per 30 per 30 per 2 a 30 per 2 a 30 non ci avrai mai questa memoria quindi sarebbe sprecato avere dei bit che ti servono indirizzare delle celle di miliardi di miliardi quando tu magari arrivi a non so 16 miliardi 16 giga quindi la dimensione del numero di bus di indirizzo dipende dalla capacità di memoria che su quel calcolatore per chi l'ha progettato ha definito che potesse essere il massimo invece con parte del computer dove c'è scritto memoria installata memoria massima installabile se voi provate ad installare di più il computer non la vede quindi la capacità massima di memoria che posso avere in un calcolatore che la CPU può indirizzare in un calcolatore io posso averne quante voglio ma quello che conta è la quantità di memoria che la CPU può vedere può indirizzare è data dalla quantità di indirizzi diversi che posso generare e poiché un indirizzo è un numero intero è 2 elevato al numero di bit e il numero di bit è la capacità dell'address bus quello è il numero di celle che posso indirizzare poi ciascuna cella avrà un certo numero di bit la memoria ha celle dicevamo di una parola di 8 bit 16, 32, 64 ogni singola parola della cellula di memoria quindi la memoria massima che posso indirizzare è data dal numero massimo di indirizzi moltiplicata la dimensione della parola di memoria qui non c'è scritto dimensione della parola di memoria c'è scritto dimensione del database e beh perché in realtà le due cose normalmente coincidono se io ho una memoria con delle parole a 64 bit ha senso installarla in un computer in cui il database sia di 64 bit se il database fosse solamente di 32 bit per leggere una parola di memoria dovrei fare due trasferimenti sul bus spreco ci vado il doppio più lento se invece la memoria fosse a 32 bit e avessi il database a 64 e quando leggo un dato della memoria mi da 32 bit gli altri 32 rimangono sprecati in entrambi i casi non sono tanto furbo quindi normalmente quando uno progetta un calcolatore lo dimensiona in modo tale che la dimensione del database coincida con la dimensione della cellula di memoria e anche guarda caso con la dimensione dei registri della CPU visto che il dato poi dove va a finire va a finire nei registri e anche il parallelismo dell'ALU perché poi da quel registro lo uso per fare le operazioni quindi quando si dice questo CPU ha un'architettura a 64 bit interna un'architettura interna a 64 bit vuol dire che poi tutto è collegato l'ALU il registro il database le cellule di memoria le cache seguono tutti quel valore di parallelismo perché questo permette ai dati di essere trasportati col minimo senza doverli spezzare in due o sprecare diciamo così delle risorse che abbiamo messo lì ma poi non stiamo usando perché non abbiamo abbastanza bit quindi la dimensione dell'ALU dei registri del database e delle cellule di memoria salvo rari casi coincidono tutte quindi questa formuletta qua è un'altra formuletta sulla base della quale fate un altro 25% di esercizi di teoria la prima metà erano cicli clock per istruzioni per ciclo periodo di clock moltiplicato cicli clock per istruzioni moltiplicato numero di istruzioni l'altra formuletta è questa memoria massima accessibile adatta dal numero massimo di indirizzi cioè 2 elevato alla dimensione dell'altersbus moltiplicata per il parallelismo dei dati che lo possiamo chiamare come la dimensione del database lo possiamo chiamare come la dimensione della cellula di memoria della parola della cellula di memoria con la dimensione dei registri con la dimensione dell'alu che tendono a coincidere tutti quindi quando andate a vedere gli esercizi di solito si tratta di girare ragionare insomma su questi due esercizi sull'architettura domandine sull'architettura sono di due tipi quelle più teoriche spiegami cosa servono i flag e quelle più di calcolo e quelle di calcolo alla fine per il tipo di cose che abbiamo fatto per il tipo di argomenti che abbiamo trattato ricadono alla fine sul fare un po' di ginnastica con questi due tipi di relazioni cioè trasferimenti di dati sul basso velocità di elaborazione eccetera e velocità di calcolo perché poi sono le due anime di un calcolatore fare i calcoli dentro la CPU clock alu istruzioni e trasferire i dati da una parte all'altra memoria dalla memoria alla CPU e così via attraverso il bus del sistema quindi questo è un pochino questo slide qua ci fa un po' il riassunto di tutta la parte hardware del calcolatore la CPU unità di controllo unità operativa l'unità operativa contiene registri alu e floating point unit tra i registri spicca il program counter spicca l'instation register che alcuni disegnano dentro l'unità di controllo è uguale sono sempre dentro lo stesso blocco e i registri di dati la memoria centrale quindi questi tre non possono mancare unità di controllo unità operativa e memoria centrale non possono mancare nei calcolatori moderni non può mancare la cache ed è sempre presente un bus su cui oltre la memoria centrale ci stanno anche le periferiche di input output la memoria secondaria la memoria di massa non fa parte di questo blocco qua tipicamente è collegata attraverso un'interfaccia apposita che sia un'interfaccia M2 per certi tipi di memoria SSD che sia un'interfaccia SATA che sia un'interfaccia ESATA che sia un'interfaccia USB Thunder come si chiama quello non Thunderbird non mi viene il nome vari tipi di interfacce che sono gestiti da circuiti che si collegano al database e poi a loro volta gestiscono la memoria secondaria quindi tutte le volte che leggo scrivo un dato alla memoria secondaria non leggo mai direttamente non è agganciata al bus è agganciata attraverso un qualche tipo di connessione a una periferica di input output che a sua volta prende i dati e li può portare in memoria ovviamente da e verso la memoria ma non è mai collegato ovviamente sopra tutto questo c'è il software quindi tutta questa figura l'aggiornamento che abbiamo fatto è il livello hardware del calcolatore sopra il quale abbiamo tutti i livelli software fino ad arrivare ai software che scriviamo noi in Python o i software che abbiamo comprato tipo Word o che abbiamo scaricato tipo Chrome sono tutte applicazioni che girano sulla CPU che è qua dentro dentro l'hardware anzi qua dentro qua tutte le istruzioni di questi programmi girano qua dentro ma come sappiamo non sono gli unici software che girano sul calcolatore perché prima di lanciare il nostro programma dobbiamo innanzitutto avviare il computer far partire il cosiddetto sistema operativo che sono milioni di righe di codice che servono essenzialmente per gestire l'hardware quindi darmi la possibilità di vedere le memorie di master vedere i dischi di copiare i dati di installare i programmi di avviare i programmi sono tutte funzionalità di base che ci permettono di usare il computer e gestire le varie periferiche quando attacco una chiavetta USB la fa vedere perché la riconosce cioè riconosce che è collegata quindi la rende disponibile e così via quindi il grosso del software che sta girando quando voi accendete il computer parte la prima cosa parte il sistema operativo il sistema operativo mette che sono i software no alla fine ci sono queste grosse tre famiglie di sistemi operativi che sono Windows il Mac OS e Linux su sistemi tipo computer desktop o laptop poi ci sono c'è Android e iOS che sono gli altri due sistemi operativi per i dispositivi mobili poi ci sono altri tipi di sistemi operativi per i dispositivi embedded quindi dentro il microonde probabilmente non c'è installato Android ma c'è installato un sistema operativo minimale quando c'è però esiste comunque che poverino il microonde deve gestire le resistenze la corrente la rotella il tastino di stop il sensore di apertura porta il suo bel lavoro anche lui ha sempre dentro una CPU ha sempre dentro una memoria ha sempre dentro un clock ha sempre dentro un software e sempre dentro il sistema operativo quindi non pensate mai non siate razzisti il computer con i computer con i computer general purpose quello di utilizzo generico quelli che usiamo noi quelli che normalmente intendiamo come computer sono più versatili quindi c'è più lavoro che deve fare il sistema operativo per mettermi a disposizione qualcosa che non sa neanche che cosa mi serva e quindi deve essere molto aperto molto ampio per permettermi di installare vari tipi di applicazioni alcune sono applicazioni qui sono chiamate utenti altre sono applicazioni di sistema preinstallate oppure diciamo così utilizzate solo per la gestione del sistema stesso pensate che i pannelli di controllo dove c'erano tutte le proprietà tutte le impostazioni quello è un software come gli altri ma da solo non serve a niente ti puoi divertire a cambiare impostazioni tre volte al giorno ma dopo un po' è un po' frustrante non serve a nulla se non a gestire o a personalizzare il sistema operativo installare le applicazioni definire le policy di sicurezza eccetera eccetera quindi qua il mondo è molto più ampio è molto più versatile è molto più diverso ma stiamo nel mondo del software dove dal punto di vista della CPU che questa sia una riga di codice di Windows o che sia una riga di codice del tuo programma in Python per lei sono sempre solo codici binari di cui deve fare il fetch the code execute e nell'execute può dover leggere o scrivere dei dati e allora mette in campo tutta la parte destra di memoria cache memoria centrale e trasferimento dei dati sul bus ok io qua mi fermerei diciamo così con la parte di descrizione spendo solo qualche minuto a ricordare invece gli aspetti logistici quindi il calendario così siamo allineati noi adesso abbiamo terminato la seconda la quarta lezione quindi la seconda lezione sull'architettura la quarta lezione di teoria e con questo abbiamo concluso il programma di teoria del corso che cadrà nelle due domandine no la prima rispettivamente prima e seconda domanda che troverete all'esame ma anche nella prova intermedia avrete visto che il 14 novembre dobbiamo cambiare l'organizzazione del laboratorio perché nell'aula 3D dove siamo di solito ci saranno gli esami di stato e quindi sono è stata sottratta a noi per quello scopo e quindi ci sono andato un'aula diversa che è la 1T in un orario diverso vabbè ce la facciamo piacere ok quindi fate attenzione l'aula è cambiata e l'orario è cambiato per quanto riguarda la parte di programmazione della prova in itinere si ferma alle cose che abbiamo già visto finora quindi le cose che vedremo mercoledì sulle tabelle e a maggior ragione la settimana successiva che sono proprio la ridossa della prova in itinere non sono nella prova ok quindi nella prova ci saranno tutto ciò che è concerne cicli stringhe e liste complete ok abbiamo poi fatto uno scambio di lezione con chimica quindi la settimana della prova in itinere di informatica facciamo un'ora in più di informatica e invece nella settimana 10 dove avrete la prova di chimica facciamo un'ora in meno di informatica e farete chimica in quell'ora così almeno non state a casa a studiare l'altra materia tanto venite qua e quindi lunedì 18 lo dedicheremo a fare esercizi in preparazione della prova intermedia quindi per la parte di teoria faremo qualche esercizio di quelli del link che vi ho già fatto vedere prendendoli più o meno a caso per la parte di programmazione faremo qualche vi forniremo stiamo preparando qualche esempietto di tipologia di domanda che potrebbe uscire e lunedì prossimo ve li proponiamo prima e lunedì li risolviamo insieme poi mercoledì di selezione come al solito e poi ci sono le prove nell'aula 3D come al solito in questi orari la prova si svolgerà sul computer usando Moodle con quiz direttamente avrete 30 minuti di tempo ciascuno non è necessario presentarsi se avete il cognome giusto basta che arriviate dando i posti diciamo così sono calcolati sono disponibili ok? poi vi metterò anche vi caricherò sul sito una prova di esempio così potete anche già provare a svolgerla con Moodle e vedere come funzionerà ci vediamo mercoledì